In questo numero di AgriFood Magazine, nel terzo trimestre lieve miglioramento per il settore, agricoltura, 90 milioni per mezzi più moderni e sicuri, sale di 9 miliardi la spesa a tavola nel 2023, il metaverso alleato del miglioramento genetico delle piante. Lieve miglioramento della performance economica per l'agroalimentare nel terzo trimestre 2023. Il PIL è aumentato dello 0,1% nei confronti del trimestre precedente e su base annua. È quanto emerge dalla fotografia scattata dal bollettino del CREA con il suo centro di ricerca politica e bioeconomia. Rispetto allo stesso periodo del 2022, fra luglio e settembre, ha subito una contrazione l'indice della produzione sia per l'industria alimentare con il picco a luglio sia per quella delle bevande. Le esportazioni agroalimentari nel terzo trimestre 2023 si attestano sui 15 miliardi di euro, confermando un leggero rallentamento dell'andamento degli scambi rispetto ai trimestri precedenti, verso tutti i principali mercati esteri. In aumento anche le importazioni, che riguardano tutti i principali fornitori dell'Italia, con alcune eccezioni, tra cui il Brasile. I prodotti maggiormente esportati sono stati gli ortaggi trasformati e i derivati dei cereali. Sul fronte delle importazioni, il CREA segnala aumenti in valore molto elevati per le carni fresche e congelate, a fronte di cali per altri comparti come il lattiero caseario e gli oli e grassi. Aumentano i fondi del bando Easy Agricoltura di Inail, destinati alle micro e piccole imprese agricole per l'ammodernamento del parco meccanico. Si passa da 35 a 90 milioni per l'acquisto di mezzi più sicuri, risorse che sono affiancate anche dai 400 milioni del PNRR dedicate ai macchinari agricoli e ai 225 milioni del fondo innovazione che il Ministero ha scelto di investire sempre in questo settore. Grazie allo strumento di finanziamento Easy, le risorse estanziate per il settore, che registrano un incremento di 55 milioni, serviranno per promuovere e valorizzare l'impegno di aziende virtuose che puntano sulla sicurezza e salute dei lavoratori, non limitandosi agli adempimenti di legge. Il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollo Brigida, sottolinea che in agricoltura i morti sul lavoro sono sempre troppi. Per questo è importante modernizzare, aumentare la produzione, migliorare la qualità della vita degli agricoltori e uno dei primi pilastri è renderla più sicura. Non ci devono essere più morti nei incidenti sul lavoro dovuti alla mancanza di fondi per sostenere la garanzia di strumenti che limitino totalmente gli incidenti, chiarisce Lollo Brigida. Nel 2023 gli italiani hanno speso circa 9 miliardi in più per mangiare grazie all'aumento dei costi che fa soffrire l'intera filiera dai campi alle tavole. È quanto emerge dall'analisi della Col di Retti sui dati Istat relativi all'inflazione che evidenziano un aumento medio del 9,8% dei prezzi dei beni alimentari e delle bevande nel 2023 rispetto all'anno precedente. Per difendersi dagli aumenti dei prezzi, 8 italiani su 10, il 77%, hanno preso l'abitudine di fare una lista ponderata degli acquisti da effettuare per mettere sotto controllo le spese d'impulso. Inoltre, evidenzia l'analisi, si è verificato un cambio dei luoghi della spesa con il 72% degli italiani che si reca e fa acquisti nei discount, mentre l'83% punta su prodotti in offerta o in promozione. Un'emergenza che si estende alle imprese agricole colpite dal maltempo che ha decimato i raccolti e dai prezzi bassi pagati alla produzione che in molti casi non coprono neanche i costi di produzione con il rischio dell'abbandono di interi territori. In questo contesto, sottolinea la Col di Retti, è importante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'aumento dei fondi per l'agroalimentare destinati agli accordi nella filiera per salvare la spesa delle famiglie italiane e sostenere l'approvvigionamento alimentare del paese. Il metaverso come alleato per testare e ottimizzare i processi di miglioramento genetico per lo sviluppo di nuove piante che diano il massimo rendimento nelle condizioni di crescita. Secondo lo studio, la tecnologia del metaverso innova la ricerca e l'apprendimento nel campo delle scienze vegetali pubblicato dal CREA, attraverso la tecnologia innovativa della realtà estesa, è possibile superare il limite dello spazio materiale e della necessaria presenza in uno stesso luogo di ricercatori e dati da studiare attraverso un avatar digitale. Le simulazioni, infatti, possono accelerare il ciclo dell'innovazione. Con gli avatar, ad esempio, è possibile integrare direttamente nella ricerca e nello studio i portatori di interesse e altre discipline. Il metaverso fornisce inoltre nuovi strumenti per generare dati sintetici e visualizzare dati biologici in 3D e 4D, offrendo la possibilità di sperimentare i dati e non solo di osservarli. Si tratta quindi di una combinazione delle tecnologie più avanzate per far fronte ai vari problemi complessi, cambiamento climatico, scarsità di risorse energetiche ed utilizzo eccessivo delle risorse naturali non rinnovabili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.